Ciao a tutte, io sono Gerli, bentornate al mio canale, grazie per aver aperto il video così mi stai aiutando in questa piattaforma qua. Allora, per il video di oggi vorrei parlare delle tendenze di tagli di capelli per il 2020 e che sto pensando seriamente in darci un taglio anch'io e ho fatto delle ricerche per vedere quali sono i tagli più diciamo che vanno più in voga, che vanno più di moda in questo momento. Alcune mi sono piaciute, altre no. E visto che io ho fatto i due video, quelli di tendenze nail art, tendenze moda, perché no inserire anche questa qua, tendenze dei capelli. Quindi detto tutto questo, iniziamo subito! Dividerò questo video in tre parti, cioè le tendenze per i capelli lunghi, capelli medi e capelli corti. Iniziamo dai capelli lunghi, guarda caso che adesso andrà molto molto di moda portare i capelli lunghi, però come scalati, cioè da tutte le parti, un po' davanti, un po' dietro, per dare un po' movimento senza compromettere la lunghezza dei capelli. Se vogliamo avere i capelli lunghi, perché adesso andranno di moda, siano i capelli lunghi e i capelli corti, però se nel caso preferiamo andare con i capelli lunghi e possiamo darci questo tipo di taglio che è molto carino e va benissimo, siano per le ragazze che hanno i capelli rimossi o va bene anche per le ragazze che hanno un po' di... i capelli... i capelli, scusa, e un po' lici e davvero mi piace. Però se come il mio caso è tagliarlo, quindi in questo video cercheremo la maniera di scoprire qual è il taglio giusto anche per me, perché voglio darci... voglio darci un taglio. Va bene, passiamo alla prossima proposta. Questa proposta qua è un po' simile a quella precedente, ma la differenza è che andiamo a scalare soltanto la parte davanti dei capelli, dietro rimarranno così lì. Va molto molto bene per le ragazze come me che hanno il viso un po' così, cioè... o alò. Va molto bene e ci sta, però non lo so se ce li ero questo taglio qua perché è un taglio che già ce l'ho avuto io per anni, cioè è già un taglio che vorrei cambiare. Va bene, andiamo a vedere la prossima proposta, vediamo che cosa troviamo. Ogni tanto noi donne vogliamo cambiare. Non lo so, un giorno ci svegliamo diciamo oggi voglio cambiare colore, pettinatura, oggi voglio cambiare la lunghezza dei miei capelli. Con questa proposta qua diciamo, penso io, secondo me, è quando siamo un po' così indecise, cioè vogliamo avere i capelli lunghi, non li vogliamo tagliare, però vogliamo avere un cambio. In questa proposta vediamo che andrà molto molto di moda fare la frangia, frangetta, che do scusa umilmente per la mia pronuncia orribile, però è una parola difficile da pronunciare per me. Allora, stavo dicendo, se vogliamo cambiare un po' il nostro viso basta che andiamo o andremo a farci togliere, diciamo, a farci fare qua la frangia e già ci cambia il viso e non compromettiamo la lunghezza o magari il taglio che abbiamo su noi stessi. Se tu vuoi cambiare e non sai ancora come fare, ti consiglio di farti la frangetta tanto se poi dopo non ti piace, ti inizia a crescere e poi raccoglierla tipo con un cerchietto e mano mano va crescendo. I capelli crescono ragazze, i capelli crescono, sono come delle come le unghie che si rompono, in questo caso si tagliano e poi ricrescono e non succede niente. Andiamo a vedere la prossima proposta. Adesso andiamo a parlare dei capelli diciamo a mezza lunghezza che non sono né corti né lunghi e per questo per quest'anno andrà molto molto di moda il taglio che aveva Jennifer Aniston quando lavorava, quando faceva French, ovvero Rachel Green. È un taglio che cioè che a quell'epoca è andato un furore, infatti tutte quante ce l'avevano, tutte quante le volevano e lei è stata molto molto famosa per i suoi capelli. Ancora tuttora oggi è molto famosa, però a quell'epoca sempre si parlavano dei suoi capelli. Questo taglio sta tornando con molta molta forza, mi piace e questo taglio va bene secondo me per diverse fissonomie del viso, magari per come me che siamo così ovali, un po' come lei che ha il viso un po' più rotondetto, possiamo chiamarlo così. È un taglio che secondo me va bene, non quasi per tutte le persone, per tutte le ragazze, però diciamo che in maggioranza va benissimo. È un taglio che non è corto, non è lungo, cioè ha la lunghezza giusta se siamo indecise, se non vogliamo portarli corti corti e non vogliamo portarli lunghi. Quindi questo taglio mi piace, sapete che la moda degli anni 90 sta tornando. Presto vi farò un video delle mode che stanno già tornando e che si hanno visto alla fine dell'anno scorso e che torneranno e secondo me rimarranno un bel po' con noi, vi starò parlando di quelle che mi piacciono e quelle che non devono tornare per niente. Detto tutto questo continuiamo con la categoria dei capelli corti. Abbiamo questo taglio di capelli bob che è andato in furore tipo più di cinque o sei anni fa, diciamo adesso non mi ricordo, però adesso si è un po' evoluto e abbiamo il bob lungo. So che ho detto che questa categoria è per i capelli corti e adesso dico il bob lungo. Allora, dobbiamo tenere presente che il corte bob è corto, cioè quello così, sicuramente vi metto qualche foto qua. Quando io intendo lungo è che è un corte, non tanto corte come quello, cioè un corte che andrà a sfiorarci le spalle, magari qualche millimetro sotto le spalle, però non passerà, cioè è un corte che andrà qua proprio proprio a sfiorarci. Quindi questo corte, questo corte, perché sto dicendo corte? Scusa. Questo taglio mi piace, mi sta attirando molto molto l'attenzione di farmi questi capelli così, farmi il bob lungo, che del lungo non è che ha niente di che, è qualche centimetro più lungo del taglio originale, però mi sta come che attirando l'attenzione, muoviamo, muoviamo. Adesso passiamo al seguente taglio. Adesso arriva il taglio bob, cioè diciamo quasi l'originale, però questa volta è per le ragazze che hanno i capelli ricci o magari ondulati. Vediamo questo taglio qua, molto molto carino, è bellissimo, guardate. Con questo taglio possiamo andare a giocare col volume dei capelli, però facendo degli piccoli accorgimenti devi stare sempre, ogni 15 giorni dal parrucchiere, diciamo per mantenerlo così, molto molto carino e mi piace molto. Un altro bob, sembra che quest'anno è l'anno dei capelli con il taglio bob, però a differenza degli altri che vi ho parlato, questo qua ci porta la frangetta, eccola qui. Quindi questa frangetta andrà molto molto di moda sia per i capelli lunghi, per i capelli corti e qua lo vediamo in una versione molto molto carina e con questo volume così, i capelli un po' ricci, un po' ondulati e con questa bellissima frangetta che sono sicura che a tante di voi vi starà d'addio questo taglio. E c'è molto questa nuova proposta del taglio bob con questa frangetta qua, carinissima, davvero davvero. Andiamo a vedere il prossimo taglio. Mi credete se vi dico che un altro bob? Sì, si tratta del curly bob, curly bob. Curly in inglese vuol dire riccio. Abbiamo questi capelli così ricci ricci. Per le ragazze che hanno i capelli così va benissimo questo taglio, si è proprio voluto anche per questa tipologia di capelli. Vediamo questo taglio bellissimo, bisogna giocare molto molto col volume dei capelli qua per mantenerlo a bada, è bellissimo. E le ragazze che hanno i capelli così saranno molto 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 fortunate quest'anno se vogliono portare i capelli corti. Questo è il taglio che fa per voi. La prossima proposta di tagli di capelli corti si chiama Bitsy. Sì, è questo qua che stiamo vedendo qua nel nostro display. Vediamo questa pettinatura tutta che secondo me va molto molto bene per le ragazze che hanno tanti tanti risci perché permette di avere molto volume nella parte di sopra e dietro qua dietro il collo e non c'è praticamente nulla. Questo questo taglio qua è molto facile da pettinare, cioè giorno dopo giorno. Dobbiamo avere l'accortezza di andare dal parrucchiere ogni tanto per tenere a bada questo bellissimo taglio. Secondo me questo taglio per le ragazze che hanno un bel viso, che sono proprio cioè che hanno dei lineamenti molto carini, che hanno il viso proprio bello. Questo taglio va benissimo secondo me. Questa è la mia umile opinione, che ne dite voi? E poi per finire abbiamo il taglio Shaggy. A me questo taglio qua mi fa ricordare Jennifer Lopez in uno dei suoi video. Se trovo la foto ve la sto mettendo qua. Andiamo a vedere questo taglio un po' così naturale, un po' così pazzarello, cioè molto carino secondo me e le ragazze che hanno i capelli così difficili di maneggiare questo il taglio per voi lo possiamo fare con o senza frangia, senza la frangetta. Mi piace moltissimo moltissimo questo taglio. Io lo vedo molto molto naturale. Quella è la sensazione che io percepisco di questo taglio qua. Va bene ragazze, siamo arrivate alla fine del video. A questo punto non lo so quale taglio farmi. Io vorrei farmi il bob, quello normale, quello che sfiorerà, il bob lungo ecco, che sfiorerà qua le spalle. Che ne dite voi? Mi piace il Shaggy però non ho i capelli così ricci ricci per farmelo. Quella la Jennifer Aniston mi piace. Va bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, che possiate prendere ispirazione se anche voi state pensando in tagliarvi i capelli. Mi scuso, mi scuso se ho pronunciato male qualche parola. Non fa niente, siamo tra amiche. Se vuoi vedere altri video di questa tipologia, iscriviti al canale. Che cosa stai aspettando? Clicca giù sotto in quella targhetta rossa che dice iscriviti. Clicca la campanella perché così ti arriveranno le notifiche e potrai venire qua a vedere un mio nuovo video. Io intanto vi mando tanti besitos e ci vediamo prossimamente qua in un prossimo video. Ciao!